Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e vedendo il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dall'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che soffre, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombre della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Don Peppino Cardegna, parroco di Ielsi, dunque un presepe vivente che viene rinnovato in questa tradizione, anche in un momento di crisi in cui è complicato magari organizzare anche questo tipo di eventi, Ielsi c'è e ci sono soprattutto tanti ragazzi, tanti anziani. Quante persone hanno preso parte a questa edizione? A questa grande edizione del presepe hanno preso parte circa 165 persone, tra piccoli e grandi, è stato bello vedere questa coesione, questa comunione, unione di forze tra piccoli e grandi. Posso dire che i ragazzi e i giovani ormai hanno preso il via e sono stati quasi indipendenti, anche nell'organizzazione delle stesse scene bibliche e degli antichi mestieri. È bello come il paese risponda, nonostante un momento delicato per tutta l'Italia e l'Europa, con questi momenti e iniziative natalizie che creano clima, che creano appartenenza, che creano visita di chi è fuori anche dell'Italia per queste occasioni, visita ai parenti ma anche appartenenza storica, culturale a un paese, quindi riscoperta di un'identità, anche grazie al presepe vivente. E con presepe vivente, lo ricordiamo, capita oggi che il giorno dopo una special Christmas che ha tenuto impegnato tutto il paese per tutto il pomeriggio e tutta la notte, ma anche nei giorni precedenti per un'organizzazione parallela, quindi Jelsic è riuscita a gestire due cose complesse e con estremo successo. Sì, abbiamo finito alle tre di questa notte la Notte Blu, che è stata un insieme di attività dai bar, dalla Proloco, le chiese aperte, quindi un intreccio di iniziative e attività che hanno visto il coinvolgimento di tutti. Per la serie possiamo dire che l'Unione fa la forza e quindi anche i nostri paesi diventano così propositivi con tanto da offrire. Parliamo invece anche di quello che è il nostro percorso, circa 40 stazioni, anche in questo presepe ci sono gli antichi mestieri, a memoria magari che so, le lavandaie dove si fa il sapone, il boscaiolo, il fabbro ferraio e di tutto il maniscalco quello vero. Però poi ci sono anche tutte le scene bibliche, ecco, ci faccio un attimo da guida, dandoci un attimo l'idea di quelle che sono le scene comunque più importanti o fondamentali. Quelle fondamentali e più curate sono la presentazione di Gesù Bambino al Tempio, la sinagoga, la scuola rabbinica con i ragazzi, il palazzo di Erode e oltre a tutta la scena dei fuochi, dei pastori e le altre scenografie tipiche del paese. Oggi siamo a domenica 29 dicembre, ci sarà un'altra rappresentazione il 6 di gennaio 2014, quale è la differenza con quella di questa sera? Quella del 6 prevede la processione che parte dalla Cappella Capozio, quindi il corteo che accompagna la Santa Famiglia con i re magi che portano i doni a Gesù e prevede poi la celebrazione eucaristica con un momento di festa finale, quindi è più liturgica quella del 6 e l'epifania del Signore. Siamo nel forno con la Signora Maria. Signora Maria, buonasera. Buonasera. Allora, in questa piccola bottega dai tanti profumi, allora voi di che cosa vi occupate, anche se è facilmente intuibile? Facciamo il pane, stiamo facendo pizza bianca, la focaccia con rosmarino, la pizza con i ciccioli, bruschettine con l'olio fresco di quest'anno e tante altre cosette, pane. Insomma, prelibatezze moderne ma soprattutto antiche, visto che ci troviamo in questo suggestivo presepe natalizio, presepe vivente di Yeltsi. Allora, quali sono le regole fondamentali, insomma le tecniche fondamentali per fare un buon, in questo caso un buon pane, che vengono anche tramandate magari da generazioni? Prima di tutto ci vuole il lievito madre proprio per fare il pane buono, casereccio, e poi una buona farina, acqua buona anche, e saperci fare, impastare bene. Questo è un buon forno. In questo caso state utilizzando il forno a legna? Sì. Questa è una vecchia casa e c'è proprio il forno a legna, lo stiamo utilizzando. Bene, allora vi state appunto facendo aiutare da due collaboratrici, come si chiamano? Rita e la signora Pina. Allora, rispettivamente che cosa fanno? Quali sono i compiti? Come vi siete distinti? Un po' ciascuno, una volta impastiamo, inforniamo, ecco, chi sporziona un po'. Da quanto tempo lei e le sue collaboratrici partecipate al presepe vivente? Quasi tutte le edizioni abbiamo fatto, sì. Sempre nel medesimo ruolo? No, una volta un forno, una volta le massaie, il mercato, la signora ha fatto il mercato. Allora, quanti chili di pane avete in procinto di fare e già avete fatto? 13 chili di farina, per fare un po' tutto, non solo pane. Pane, abbiamo detto tutte le altre prelibatezze che ci sono. La signora Pina è l'addetta ad infornare la pizza in questo caso. Che cosa succede? C'è una prima fase, abbiamo detto c'è stato l'impasto, dopodiché c'è l'altra signora che vi passa giustamente la pizza in questo caso e lei lo inforna. Quando il forno è pronto per inserirci appunto la pizza in questo caso? Sì, sì. Quando è pronto? Quando lei... Soprattutto la cupola è bianca, tutto bianco, poi con questa fiammella qui ci regoliamo il colore del pane, della pizza e niente, a occhio ci regoliamo. Aspettiamo che arrivi anche l'altra signora che sta sfornando il pane, giusto? Pizza bianca. Bene. Fumante si vede anche molto profumata, per cui devo dire che la ricetta è uscita benissimo. Allora, da parte a questo punto di queste tre belle fornaie, facciamo un augurio ai telespettatori di Viaggio in Molise per il nuovo anno? Anche auguri per il nuovo anno. Ebbene, siamo al mercato del presepe vivente di Yelsey con Giulia e Antonella. Allora, come sta andando la trattativa qui al mercato? Ma, abbastanza bene, diciamo così dai. Qualcuno voleva le mandorle, le nocciole, i fagioli quelli bianchi molto grandi, che molti non li conoscevano. Devo dire abbastanza bene. Insomma, abbiamo arricchito il presepe di prelibatezze anche nostrane. L'unica cosa che non è nostra sono gli arance e i mandarini che non sono di questo posto. Il resto è tutto delle persone che comunque di Yelsey che ci hanno dato una mano, chi ha messo le mandorle sono sue, le mele sono di altre persone. I cachi, delle campagne, tutto di Yelsey, ecco. Bene, bene. Poi abbiamo naturalmente il simbolo di Yelsey che è il... Grano, certo, certo. Perché noi siamo anche componenti tutti e due del comitato della festa del grano. Quindi era logico che mettessimo anche noi qualcosa del grano, ecco. Ovviamente. Anche questo nel mercato del presepe vivente di Yelsey non poteva mancare. Mai. In un bel bouquet, devo dire. Se ne prendiamo uno così facciamo vedere anche i nostri telespettatori di Viaggio Molise un favoloso bouquet di grano. Sì, che ci ha donato sempre una signora, ci ha donato perché noi non l'avevamo portata con noi. Ha detto, ce lo mettete pure qualcosa di Sant'Ano? Ha detto, certo, perché no? E ce l'hanno donato, ecco. Bene. Poi, tra le altre cose abbiamo naturalmente l'aglio e poi te dici anche, insomma, nel dialetto di Yelsey, cos'altro avete qui nella bancarella del mercato. Allora, questo che si chiama... Ah, brava, lo sa più lei di me. Il upperchio si chiama. Poi ci stanno queste qui che sono delle mele, quelle lì, le mele annurche. queste qui, poi lì che ci sono altri tipi di mele che sono tipiche del nostro paese. Poi i fagioli, vabbè, queste cose... Poi c'è la camomilla. Sì, sì, ma anche la camomilla è fatta anche da una signora qui vicino che ci ha dato la camomilla. Per voi la prima partecipazione al presepe vivente, primo anno, insomma, siete delle veterane? No, no, il primo anno penso che si capisce anche che siamo proprio il nostro primo anno. almeno il mio è stato il mio primo anno, anche il suo. Emozionante far parte di un bel gruppo, di una bella organizzazione che ha fatto, appunto, ha fatto sì che venissero da tanti posti, tanti visitatori a vedere, insomma, questo suggestivo presepe in occasione, appunto, delle festività natalizie. Sì, siamo molto contenti e speriamo l'anno prossimo, quando sarà, di farlo ancora meglio di quello che abbiamo fatto oggi, ecco, di migliorare sempre. Speriamo. Grazie a tutti.